Buona domenica e bentornati per questa prima edizione del nostro giornale. In apertura occupiamoci della situazione in rete all'emergenza coronavirus perché ieri sono stati diffusi nuovi dati per quanto concerne la protezione civile. I casi sono arrivati a 92.472 con 70.000 persone positive, persone guarite 12.384, i deceduti sono 10.023, ieri sono stati i decessi 889 rispetto ai 969, caso e bilancio drammatico di venerdì scorso. Un bilancio che ha lasciato molto preoccupato il Presidente del Consiglio Conte che ieri sera è intervenuto nuovamente per presentare anche un'altra serie di misure importante questa volta per le persone che ne hanno fortemente bisogno anche per quegli esercizi commerciali non indispensabili. Poi ha anche confermato che ci sarà una proga per quanto concerne le misure già attuate sia per quanto riguarda il settore scolastico che anche per quanto concerne le attività non essenziali. Ascoltiamolo.